ciao amici di napolità benvenuti in questo video ci sono delle sembra che parliamo sempre delle stesse cose in questi video ma non è vero perché le cose si aggiornano ogni gioco come devono aggiornarsi gli allenatori dobbiamo aggiornare anche noi le situazioni le dinamiche perché nel mercato sono importantissime le dinamiche ma durante questo video spaziamo clara di lorenzo una cosa sulla difesa e poi una cosa importantissima che vi dirò durante il video tratta perché c'è uscita una cosa tra conto e de lorenzo è un backstage importante di mediaset ma ve lo dico subito ma prima di iniziare voglio ringraziare tutti i nuovi abbonati e voglio invitare a chi passa oggi per la prima volta su questo video ad iscrivervi al canale ad attivare la campanella e le notifiche così da non perdere nessun contenuto e lasciare un like e un commento a questo video che per noi è fondamentale dell'algoritmo è una cosa importantissima giù c'è un quarkod dove potete scaricare l'app di sofascoro completamente gratuita e non dimenticatevi mai di www.napolita.it che è il nostro sito ufficiale e trovate tutte le notizie in tempo reale tutte ragà mettetelo tra i preferiti eh mi raccomando oggi è stata l'ultima puntata di fuori dagli schemi su radio napoli centrali finisce la stagione a breve vi farò sapere no il futuro quando rinizieranno le puntate vi farò sapere tutto però voi se tenete la notifica non perdete niente e poi per gli abbonati sapete che c'è un gruppo telegram dedicato dove io vi do tutte le notizie giorno per giorno in tempo reale a ogni ora e soprattutto per gli abbonati ricordatevi che c'è sempre il contenuto esclusivo per chi non lo sapesse per gli abbonati c'è il salottino di Sasa che è stupendo il salottino di Napolita perché ogni sera esce un contenuto esclusivo per gli abbonati ragazzi andiamo a capire un po' che cosa è successo ieri perché c'è stato il super blitz c'era De Laurenti ovviamente Giovanni Manna che è super iper operativo e poi c'erano diciamo c'era la parte importante la parte burocratica legale era l'avvocato Grassani e c'era ovviamente Andrea Chiavelli l'uomo dei contratti che cosa è successo ieri a Dusseldorf arriva lì il Napoli e vicino all'aeroporto c'è questo incontro con Mamukka Yugeli forse l'ho detto bene che la gente di Quaraschelia Quaraschelia e si è parlato ovviamente del giocatore che è un punto importante ieri ci arriva questa notizia che a noi piace non poco che il giorgiano Quaraschelia è stato molto felice e contento di sentire dalla bocca di De Laurentiis che lui è il giocatore principale tutto il Napoli di Antonio Conte passerà per Quara questo è importantissimo ovviamente la presenza di Grassani c'è stata e voglio fare anche complimenti a Serena che lo ha subito sottolineato è stata lì perché bisognava ovviamente mettere in chiaro per chi non l'ha capito perché poi a volte io mi arrabbio anche un po' quando sento ironizzare sui contratti De Laurentiis si sono contratti lunghi di 100 pagine che dura una settimana solo perché ci vuole una settimana solo per leggerli però ragazzi questa è una cosa che va al nostro favore perché in quei contratti di 100 pagine e soprattutto quando sono lunghi c'è una forza sulle trattative perché Grassani sicuramente è andato lì per far capire che non c'è nessun modo per lasciare il Napoli che il Napoli ha un contratto lungo con Quaraschella però vicino alla frase il Napoli parte da te Antonio Conte vuole te come giocatore principale ovviamente si è parlato di un adeguamento di contratto che il calciatore merita e non stiamo mettendo da parte il fatto che è stato un errore clamoroso per me non adeguare immediatamente dopo la vittoria dello Scudetto mentre si stava festeggiando bisognava chiamare Quiccia e adeguare il contratto quindi io sono veramente fiducioso a parte che non butto indietro le parole di Antonio Conte sul fatto che Quaraschella e di Lorenzo sono incedibili però dopo le parole di Lorenzo e dopo sicuramente la richiesta che forse è stata rifiutata in prima battuta perché così vanno fatte le trattative no magari il Napoli dice 4 cifre inventate dice 4 la gente di Quara dice 6 e si trova una via di me però la cosa è assolutamente indirizzata poi dobbiamo segnalare invece questo like che praticamente arriva sotto alla conferenza di Antonio Conte importante e come la prendete voi come lo prendete voi questo like oggi che oramai è tutto no social e questa cosa ovviamente ha messo un po' più tranquilli alcuni tifosi del Napoli perché lì c'è ancora una divisione importante perché c'è ancora chi non accetta più di Lorenzo in questo momento e io non mi va cioè non mi va di andare contro alle persone in questo momento dicono senti hai fatto hai fatto troppo noi non ti vogliamo più come capitano però poi c'è quella parte che per il bene del Napoli e soprattutto per avallare quelle che sono le scelte di Conte è pronto ad accettare di nuovo il capitano quindi cosa ne pensate voi di questo like che ha messo di Lorenzo alla conferenza di Antonio Conte fatemelo sapere ovviamente nei commenti come mi dovete far sapere nei commenti la situazione di Quaraschella se a voi vi convince se le cose diciamo se questa cosa vi ha rasserenati dovete dirmi la vostra opinione sapete che per me è fondamentale poi andiamo a parlare di questa notizia che arriva per quanto riguarda il reparto difensivo perché sembra che alla fine alla fine il Napoli voglia tenere ad oggi solo Amir Rachman per il resto sono tutti cedibili un po' quella cosa che fa paura anche di lei perché poi da quando tutti i cedibili sono usciti un po' i mal di pancia chiamiamoli così che poi avete visto che poi mal di pancia sono momenti un po' che qualcuno magari se la prende perché perché ci sta dopo una stagione di quella cosa volevate sentire stiamo qui con tutti voi perché avete fatto benissimo ci sta però ritornando seri nella difesa sembra che l'unico ad oggi intoccabile sia Amir Rachmani questa cosa voi l'accettate per voi è giusto pensarla così perché poi ci stanno per esempio le parole su Nathan perché in tanti lo portano come prestito in Italia per farlo restare per tutto nel Napoli e poi a giocare nel campionato italiano altri lo portano come cessione a titolo definitivo anche se io lì vi do sempre lo stesso consiglio ragazzi in questo momento prendete tutto con le pinze con calma state attenti perché magari ci sono anche valutazioni il Napoli magari vuole capire se c'è qualche club interessato per il prestito per la vendita quindi dobbiamo aspettare un po' che cosa ne pensate voi di questa notizia che cosa fareste con Nathan fatemelo sapere nei commenti la stessa cosa vale ovviamente per Ossica dobbiamo capire cosa farà il difensore su Juan Jesus io vi dico la mia raga Juan Jesus non credo che ha troppo mercato a un altro anno eh non lo so se qualcuno lo prende anche per eh perché non lo puoi adoperare in tutte le partite anche se lo fai giocare magari in un club eh diverso può giocare eh diciamo senza molta tensione può giocare con più libertà però io Juan Jesus lo vedo come un calciatore difficilmente piazzato e onestamente io Juan non lo vorrei tenere nello spogliatoio fatemi sapere anche la vostra su questo e va fatto però un plauso a Olivera che sta facendo delle partite straordinarie ragazzi con l'Uruguay con l'Ocobielsa ieri l'Uruguay vince 5 a 0 ed è una squadra credibile secondo me ad oggi dopo l'Argentina c'è l'Uruguay poi viene il Brasile che ha aperto con uno 0 a 0 Scialbo non è riuscito a vincere la prima partita con Costa Rica però veramente Olivera mi sta facendo vedere delle prestazioni straordinarie centrale di questa difesa 4 con il logo Bielsa ma con una veramente libertà di regia è lui che prende palla gli danno il pallone sempre quando c'è la costruzione da basso si passa molto dai suoi piedi e poi sta iniziando anche a giocare nel lungo sventagliate di destro di sinistro ottime prestazioni per Olivera vedremo poi Conte se è contento di questo perché abbiamo ci è arrivata la notizia che lui vorrebbe anche adattarlo come terzo in questa difesa 3 vediamo un po' cosa succede chiudo questo video parlando invece del fuori onda no perché ci arriva questa notizia che il giornalista di Mediaset che ha intervistato Conte ha sentito nel backstage ha praticamente ha strappato dalla bocca di Antonio Conte questa frase dove lui diceva io sono molto entusiasta perché io e il presidente la vediamo nello stesso modo siamo tutti e due pronti a rigirare completamente la stagione passata rimetterci di nuovo in in carreggiata nella carreggiata giusta e quindi sono molto contento di aver accettato questo progetto quindi queste sono frasi sono frasi belle perché la condivisione la prima cosa è questa cosa sottolinea il fatto che si sta andando verso la direzione corretta a mio parere io sono entusiasta perché ho visto tante cose positive e soprattutto sottolineo ancora quella parte dove lui in conferenza dice tutti pensano che noi siamo in confusione quando non è assolutamente vero e questa frase che ci dice il giornalista che al di là delle telecamere Conte gli ha detto io il presidente la vediamo allo stesso modo mi fa stare ancora più tranquillo questo non vuol dire che penso che il napoli vinca lo scudetto a mani basse però dobbiamo essere secondo me contenti per quello che stiamo vedendo e soprattutto per questo cambio radicale che c'è stato nel napoli ragazzi io vi saluto vi auguro una buona giornata domani ci sarà l'italia magari ne parliamo prima dopo vediamo domani quando uscirà il video ci organizziamo e poi ragazzi state con la notifica perché a brevissimo abbiamo un esperto di mercato perché dobbiamo parlare un po di tutte le situazioni no del mercato del nome anche il mercato delle altre che ci interessa perché Conte non ha tempo non sa fare il comprimario ragazzi io vi saluto un bacio e un abbraccio da sasà e sempre forza napoli ciao 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 ciao